Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto Ziegler 194 X 150. Questi tappeti vengono annodati in Pakistan seguendo la tradizione nata nella regione Arachim Persia. L'azienda britannica Ziegler iniziò qui nel 1870 una produzione di tappeti adatti ai gusti europei. I motivi sono spesso ripresi dai tappeti persiani. La lana è di ottima qualità e colorata con pigmenti naturali. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa 7 mm. Pelo, lana filata a mano stonewashed. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.